Giulia Stabile e Holden hanno partecipato al concerto di un vincitore di Amici molto amato. Ecco di chi si tratta. L'edizione di Amici 23 si è appena conclusa, ma i fan non vogliono certo accettare che sia l'epilogo e che non vedremo più i ragazzi e i professionisti insieme. Questa più delle altre, è stata una stagione che ci ha davvero fatto appassionare parecchio agli allievi, le loro storie e le dinamiche che si sono create in casetta. Il talent di Canale 5 oltre a sfornare talenti su talenti, permette di costruire dei rapporti che poi durano del tempo, regalando anche delle chicche di gossip non indifferenti. In questi giorni alcuni dei finalisti si stanno facendo conoscere in giro tra promozione e progetti vari, smaltendo ancora tutta l'adrenalina per la fine del percorso. C'è chi giustamente ne approfitta per divertirsi e fare tutto quello che nei mesi precedenti non hanno potuto fare. Naturalmente si accodano anche i professionisti, spalla importante sia a livello professionale, che sul fronte umano. Giulia Stabile ha condiviso un momento ieri sera insieme a Holden, e non erano soli. Giulia Stabile e Holden al concerto di Luigi Strangis, con loro un altro ex allievo di amici. Giulia Stabile è entrata a far parte in tutto e per tutto della scuola di amici, non solo come coreografa e professionista. Il suo supporto ai ragazzi è costante e continuo, e le ha permesso di costruire dei rapporti molto solidi. La vincitrice Sara Toscano le ha dedicato una frase di un suo inedito, e tutti coloro che sono stati eliminati di puntata in puntata, le hanno rivolto un pensiero. Ieri sera a sorpresa, si è lanciata in una serata romana con il finalista Holden. I due erano al concerto di Luigi Strangis, vincitore del talent qualche anno fa e volto molto amato. Il loro supporto per lui è stato parecchio animato e nel corso dell'intera serata, i contenuti social ne sono la prova. I due non erano da soli, e si sono mostrati in una serie di storie su Instagram. Con loro c'era un altro ex allievo e compagno di classe proprio di Giulia Stabile, il cantante Deddy. I tre hanno assistito insieme alla serata da una posizione privilegiata, e si sono naturalmente divertiti moltissimo. Un altro esempio, l'ennesimo di come in quel contesto possano davvero nascere delle splendide amicizie, non solo tra i ragazzi che gareggiano. Anche i professionisti e tutte le figure coinvolte alla fine, con tutto il tempo che trascorrono insieme instaurano dei legami bellissimi. Questo sembra essere solo l'inizio.